cari amici di motorsport.com ciao a tutti benvenuti in questo nostro nuovo video di analisi dedicato al Gran Premio del Brasile Gran Premio di San Paolo e c'è da dire che se Austin e Messico avevano regalato spettacolo con Interlagos direi che si sono toccate vette altissime come altissimo è stato il livello di bravura di Max Verstappen che torna a vincere dopo dieci gare di digiuno grazie ad una rimonta veramente strepitosa ma di questo e molto altro ne parliamo con il nostro direttore Franco Nugnes ciao Franco buongiorno ciao Beatrice con il nostro Giorgio Chiola ciao Giorgio ben ritrovato ciao Beatrice ciao a tutti quanti e con il nostro Roberto Chinchero ciao Roby ciao 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 buongiorno a tutti allora ragazzi quella di Max Verstappen è stata una vera e propria zampata decisiva no per il campionato in una domenica lunga molto lunga quanto ricca di imprevisti Max partiva dalla diciassettesima posizione vince firmando secondo me un'impresa storica e andando ad aumentare a 62 no i punti di distacco da Lando Norris nella classifica del mondiale piloti nei 69 giri percorsi secondo me qui rubo una piccola frase del pezzo di Roberto c'è stato tutto il meglio di Max parto da te Franco io credo che ieri c'è stata l'investitura di Max per quello che è il quarto titolo mondiale penso che la McLaren da oggi comincia a pensare di difendere quello che può essere la leadership del titolo costruttori perché attenzione poi da Las Vegas c'è una Ferrari che si può risvegliare quindi eh devono stare con le scarpe ben allacciate ma il tema era Max e ieri la gara l'ha vinta Max sul bagnato eh andando indietro di qualche anno ci ricorderemo una vittoria eh di Max proprio eh sul bagnato a Interlagos dove diede lezioni di guida con traiettorie completamente diverse da chi stava correndo contro di lui in quel momento conquistò una vittoria strepitosa ma qui eh mi incuriosisce il fatto che il mondo spesso negativo nei confronti dell'olandese per questi modi eh spesso non urbani di esprimersi fuori dalla pista a volte con ragione eh e eh anche in pista eh sia stato accomunato a eh Ayrton Senna sarà perché ci sono i trent'anni del ricordo sarà che eh proprio a Interlagos abbiamo visto un Lewis Hamilton guidare una McLaren di Ayrton sarà che c'era un clima eh in qualche modo legato al brasiliano però la prestazione ieri di di Max è stata in qualche modo collegata con il 1993 Gran Premio d'Europa a Donington dove eh il signor eh Senna Magic diede praticamente quasi un giro a tutti e eh dopo un niente partì quinto e e salutò tutti quanti con sorpassi straordinari. Max era diciassettesimo in griglia e abbiamo visto una progressione che è stata strepitosa. Nessuno ha azzardato a tirargli una staccata perché aveva un passo eh veramente diverso da tutti gli altri e ha fatto vedere che cosa vuol dire essere oggi tre volte campione in pectore per la quarta volta. Magico quindi caro Franco. Roby a te la parola. Magico non lo voglio regalare lo lasciamo a chi se l'è meritato però troveremo troveremo modo per conoscere riconoscere il merito di Max. Vai Roby. Guarda sono ci sono delle giornate che alla fine mettono il timbro no su 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 quello che può essere una classifica eridata che magari sono solo numeri e sono un po' freddi presi presi da soli. Io credo che ieri abbiamo visto qualcosa di di straordinario ehm siamo reduci da un duemila e ventitré dove abbiamo dove abbiamo visto Vestappen eh delle volte festeggiare uscire dalla macchina eh fare un saluto a distanza a quelli che erano i suoi meccanici sotto il podio a Cristiano Orner, a Helmut Marco e e e salire a ritirare la coppa. Ieri ha capito, lui è stato il primo a capito di aver fatto qualcosa di eccezionale eh ha festeggiato più ieri eh rispetto a quando ha a matematicamente conquistato i titoli mondiali nel ventitré e ventidue. Credo che già quello dia un po' la portata dell'impresa che è riuscito a fare a fare Vestappen e poi è riuscito a farlo in un momento in cui era in teoria sotto pressione anche se associare la parola pressione a Max eh non è il migliore degli abbinamenti. Lui sembra immune da 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 dalla tensione e quest'anno eh devo dire che abbia visto il il meglio di Max forse gli scorsi la scorsa stagione non era neanche possibile perché dall'alto della superiorità della monoposto di cui disponeva ehm era anche difficile cogliere quanto fosse buona la monoposto e quanto ci fosse di Max. Quest'anno credo che eh sia tutto più visibile e vedere a fine gara anche le espressioni di Helmut Marko e di Christian Horner eh devo dire che l'hanno proprio incoronato eh campione del mondo ma lui titolo proprio di Max. Questo è un campionato di Max e e credo che sia stata una bella giornata in generale per la Formula 1 anche perché ha riportato la la variabile credo che non ci sia mai stati di dubbi ma ha riportato la variabile pilota un po' al centro della scena. Giorgio Max Verstappen si potrebbe un po' definire come un trascinatore solitario di se stesso e della squadra perché questa monoposto non è più eh la dominatrice no o comunque il missile che era di inizio stagione e tra l'altro la squadra non può neanche più contare su Perez perché non è riuscito neanche questa volta a vedere la zona punti. Giorgio. Sì ma io andrei persino oltre quello che ha detto Roberto che condivido in pieno perché l'anno scorso sembrava quasi annoiato di vincere perché aveva una macchina perfetta no? Questa è proprio la vittoria sua come dici tu ha trascinato tutto quanto la squadra questa volta è stato il pilota Max ma credo che in tutto questo abbia anche influito il fatto di tutta la pressione negativa che c'era stata su di lui e le pennellizzazioni la rabbia per la qualifica che ha dato il pugno contro il volante era veramente arrabbiato ma tutto questo invece che tramutarsi in una situazione negativa gli ha dato quella forza pazzesca ancora di più diciassette giri il miglior giro con addirittura l'ultimo proprio come per dire guardate sono io ho fatto il massimo è tutta la sua vittoria e giustamente come hanno detto anche prima sia Franco che Roberto non ha mai festeggiato in questa maniera perché questa è una vittoria ma più del 70 per cento di Max è proprio una vittoria quasi tutta tutta sua è stato bravissimo intelligente tattico aggressivo dove voleva ha preparato per esempio nel giro di formazione dell'ultima partenza ha rallentato tantissimo poi ha accelerato all'ultimo in modo che quelli che erano fermi che hanno dovuto aspettare tanto avevano le gomme che si erano raffreddate lui è arrivato invece con le gomme quindi anche intelligente in tutta questa sua cioè tutto quello che era negativo che poteva su un altro carattere influire in maniera non buona in lui si è trasformato in energia di più quindi un super Max Verstappen veramente come diceva prima Roberto a Max non si può associare la parola pressione o tensione più che altro questa pressione si tramuta in rabbia infame ed è quello che secondo me ha dimostrato veramente in tutta la gara ragazzi perché con questa vittoria oramai lui sembra davvero un piccolo passo non dalla conquista del quarto titolo mondiale della sua carriera e chi vede invece ogni speranza mi vorrebbe da dire davvero svanire è Lando Norris che io definirei come il grande sconfitto del weekend di Interlagos chiude in sesta posizione poi tra l'altro si chiude anche con una reprimenda l'investigazione relativa alla procedura sbagliata di partenza Norris che aveva firmato la pole la vittoria nella sprint e ancora una volta errori pioggia hanno diciamo giocato un brutto scherzo non solamente a Lando ma anche alla stessa McLaren che ha addirittura chiuso ottavo Giorgio dimmi Sì fra l'altro Norris bisogna sottolineare i due McLaren avevano cambiato l'ala posteriore quindi avevano una macchina che in teoria era più preparata delle altre per la pista bagnata quindi in teoria avrebbero dovuto sul bagnato dare lezione agli altri e quello che non mi è piaciuto ecco sono rimasto sorpreso quanto mi ha fatto piacere e sono rimasto sorpreso perché ultimamente ero un po' negativo sul modo di difendersi diciamo di fare stappi in pista no? Sempre con quella sua portare all'esterno anche se ha diritto della corda però portare all'esterno l'avversario che lo ha fatto in tutte le occasioni mi ha sorpreso invece Lando Norris con la battuta della fortuna della squadra che ha vinto Altro che fortuna Altro che fortuna, lì talento pazzesco e mi dispiace che non lo abbia riconosciuto perché lo considero un bravissimo ragazzo anzi come carattere proprio fa quasi tenerezza con i suoi difetti che sono quelli che lo limitano e che per conto mio non è ancora maturo per essere un uomo da lottare, un pilota da lottare per il titolo mondiale Do la parola a Franco, è il grande sconfitto del weekend Lando Norris? Io direi, scusate, io direi che la grande sconfitta del weekend è la McLaren perché la McLaren doveva fare primo e secondo esattamente come nella sprint race Norris anche ieri nel Gran Premio e avrebbe dato un'impronta a quella che è la stagione 2024 Norris conferma le debolezze mentali, non di guida mentali nel saper adeguarsi a quello che è il continuo cambiamento di una stagione che in questo momento è veramente straordinaria e credo che non senta sufficienza il supporto della squadra perché è debole caratterialmente, subisce le cose faceva il giullare quando non vinceva e si proponeva come il simpatico della comitiva ha rotto il trofeo di Max e volevo vedere cosa succedeva al contrario non riusciva a sbloccarsi, finalmente c'è riuscito e tutti pensavamo che sarebbe stato un passaggio di trasformazione della carriera di un buon grande pilota in quello che poteva diventare un fuoriclasse io comincio a temere invece che il fuoriclasse non lo sia e non sia una questione di maturazione, cioè di tempo che sia necessario ma di un qualcosa che oggettivamente manca e quando è caratteriale è difficile andarlo a combinare o va a fare un long run con il dottor Ceccarelli che gli riprogramma la centralina del cervello o se no credo che sia terribilmente difficile cambiare un'attitudine vedo più rampante Piastri che secondo me ha patito molto l'ordine di cedere la posizione nella gara sprint e in qualche modo si è chiamato un po' fuori dai giochi perché se la giocasse Lando Norris di modo che se poi questo mondiale lo perde l'anno prossimo non c'è il campione del mondo in squadra ma può ripartire in un rapporto paritario all'interno del team per concludere il concetto vedo una McLaren debole nel dare degli input molto chiari cioè io sono convinto che i team principal Caronia che abbiamo in questa Formula 1 Toto Wolff, Christian Horner, Fred Vasseur e quant'altro non avrebbero perso un secondo nel dire caro Piastri questa è la prima guida di qui alla fine del campionato e se non aiuti Lando a diventare campione del mondo non fai il tuo lavoro caro Lando non sei più con le braghe corte adesso sei adulto, devi portare a casa il mondiale cioè discorso molto duro come ha avuto la faccia di fare ieri quel tollone di Briatore che ha parlato bene dell'Alpine e ha citato solo Gasly che è arrivato terzo e Ocon che il pilota in uscita non l'ha proprio nemmeno citato questa è la situazione dove i durissimi cattivi forse riescono a ottenere dei risultati la crescita della McLaren con Andrea Stella che stimo tantissimo è stata lineare fin tanto che era il momento di arrivare alla lotta per il titolo e la sua bontà, chiamiamola così, la sua voglia di tenere un sistema funzionante e l'ha detto in un'intervista bellissima a Roberto che non vuole spaccare il sistema nel 24 perché lui vuole vincere 25, 26 e 27 credo che sia un'arma che si ritorca contro la squadra Roby a te la parola ma è stato un weekend strano quello di Lando perché l'1-2 della McLaren, l'1-2 nella gara sprint dove Piastri ha dovuto cedere la posizione dopo il position che c'è stata sul bagnato, importante conquistata da Lando insomma lasciavano presagire un weekend importante forse un weekend che avrebbe potuto svoltare in positivo per la McLaren in questo mondiale poi in realtà i guai sono iniziati sin dal via perché ha perso la posizione al via e già questo è stato un passaggio importante nella sua gara poi è riuscito a stare attaccato a Russell però come ricordava Giorgio probabilmente anche l'ala ad alto carico non l'ha aiutato come velocità di punta perché era più veloce della Mercedes, si vedeva però non aveva lo spunto per passare Robi scusa, hai ragione sul dritto non riuscivi a passare ma sul bagnato abbiamo visto i sorpassi in ogni curva dell'interlago se è possibile nel momento in cui tu hai più trazione hai l'ala che ti aiuta e cavolo, attaccalo altrove non aspettare solo l'uso del rettilineo ecco, lì vedo un limite aggiuntivo poi dopo la gara Andrea Stella ha fatto una lunga analisi la prima è stata quella relativa alla decisione di fare il pit stop che è risultata poi penalizzante chiaramente fortemente penalizzante per Norris con la bandiera rossa però lui diceva la pioggia stava aumentando io non me la sentivo di lasciare in pista con quella quantità d'acqua i miei piloti con gomme intermedie usurate a quel punto e ha difeso la decisione della squadra dicendo noi l'abbiamo fermato al momento giusto il problema è che subito dopo c'è stata la safety car tra l'altro devo dire che conferma la teoria di Stella perché è fatta entrare proprio per la quantità d'acqua che era caduta poi c'è stato però l'incidente di Colapinto e questo ha cambiato un po' le carte perché di fatto poi Verstappen, Ocon e Gasly hanno avuto un pit stop gratuito di fatto però il ritmo poi visto nella seconda parte di gara e lì non ha lasciato dubbi io mi aspettavo che Norris sarebbe stato in grado poi di andare comunque magari a prendere comunque le due Alpine a salire sul podio invece il ritmo non ne ha avuto c'è questo giallo dei bloccaggi che ha voluto sottolineare ieri Stella ha avuto un bloccaggio in qualifica Piastri e ha avuto quel bloccaggio poi nella ripartenza Norris alla prima curva che lo ha portato poi a perdere due posizioni a quel punto lì la sua gara era assolutamente compromessa in chiave podio dicendo che dovranno investigare può anche essere vero perché comunque io mi fido di Stella a volte però le squadre usano queste motivazioni per togliere un po' i loro piloti per cercare di togliere il pilota il pilota in questo caso Lando per toglierlo un po' dalla bufera dagli attacchi gli offrono, gli lanciano un salvagente questo io credo che al di là di tutto il ritmo ieri non ce l'aveva la McLaren con le intermedie non ce l'aveva e Norris in termini di valore aggiunto francamente ha dato poco Ma secondo te anche l'errore prima del via quello di essere comunque andato avanti dopo il primo giro di ricognizione della partenza abortita questi lunghi quanto può incidere una poca concentrazione forse anche dovuto dalla lunghezza della giornata dall'intensità della giornata quella che hanno comunque vissuto tutti i piloti Ci sono dei piloti che fanno 24 ore di Le Mans per cui sì per carità la giornata la giornata è stata una giornata intensa io credo che lì si torna al punto in cui un conto come diceva anche prima Franco è lottare per la quinta e la sesta posizione quando arriva un podio e festa quella è una Formula 1 un'altra cosa è quando tu sei chiamato a vincere cioè lui partiva ieri dalla polla e doveva vincere e lì la pressione cambia la pressione cambia tanto ti cambia lo scenario intorno il fatto che tu debba alla fine ottenere il risultato per la squadra perché viene ritenuto in quel momento il minimo sindacale ti mette pressione l'errore che ha fatto al semaforo sì per carità uno può succedere ma è successo proprio a lui insomma alla fine disegna uno scenario generale da cui Lando non esce bene in termini di tenuta poi in altre condizioni lui la macchina la sa guidare questo lo sappiamo è un pilota veloce l'ha fatto già vedere però effettivamente poi per vincere il mondiale non basta la velocità servono anche tante altre cose io credo che quest'anno Verstappen abbia saputo tenere insieme una squadra perché non dimentichiamoci che Red Bull ha attraversato e sta attraversando credo ancora la stagione più difficile della sua storia con tante vicende che si sono intrecciate caos manageriale AD importanti una macchina che con gli sviluppi non è andata come nelle previsioni lui l'ha presa un po' sulle spalle questa squadra è stato l'unico punto fermo che c'è stato dalla prima all'ultima gara questo Norris al momento non l'ha fatto e al momento non sembra neanche in grado di farlo l'uscita di scena della McLaren dalla zona podio ha dato di fatto la possibilità all'Alpine di raccogliere un bottino veramente prezioso con le monoposte di Ocone Gasly in seconda e terza posizione diciamo che la pioggia ha limitato un po' i difetti delle due monoposte ma anche strategie pilote hanno contribuito a raggiungere questo risultato Giorgio te lo saresti aspettato un risultato del genere dall'Alpine? No assolutamente no ma credo nemmeno loro però già nelle ultime gare avevano dimostrato di aver fatto dei grossi passi in avanti credo che il fatto che la pista fosse bagnata e anche la stessa potenza del motore Renault fosse in altre occasioni un punto negativo invece questa volta hanno dato una mano e la monoposte è risultata estremamente non facile però insomma adattarsi benissimo a queste condizioni di pista mi ha fatto anche piacere in una maniera sempre per i miei ricorsi storici il fatto che così proprio in Brasile Ocon soprattutto nei confronti di Verstappen si è riscattato dopo quello che io ho sempre definito la manovra più sciagurata inutile e stupida di tutta la carriera un pilota doppiato che fa fuori il leader della gara come era successo e abbiamo visto che Verstappen ha accolto Ocon benissimo sul podio e quindi niente più spintoni come era successo in quell'occasione e insulti quindi una sorpresa pazzesca Briatore al dono magico di arrivare sempre nel momento giusto sicuramente ha preso delle decisioni importanti ha ridotto il numero ha fatto una netta selezione ha deciso per la motorizzazione della prossima stagione quindi mossi importanti però questo risultato tecnico non è sicuramente frutto della sua magia è frutto che evidentemente hanno lavorato bene pur partendo con una monoposto che sin dall'inizio dell'anno sempre detto era una delle più brutte della stagione e giù dal podio troviamo invece la Mercedes di Russell una Mercedes che comunque vede anche Louis Hamilton in rimonto a chiudere in decima posizione dopo aver combattuto a ruotate con questa nuova generazione di piloti che timori irreverenziali nei suoi confronti non ne ha davvero dimostrati e poi arriviamo alla Ferrari in quinta piazza troviamo la superstite SF24 di Charles Leclerc una Ferrari che ha messo diciamo una pezza su uno dei settimani su uno dei suoi fine settimana più difficili Franco vengo da te per commentare la rossa non volendo parlarne in termini negativi tutti i commentatori hanno messo la Ferrari ci ha messo la pezza però se andiamo a guardare come si è usciti dal Messico e quali erano le previsioni per Interlagos l'aspettativa era di andare a guadagnare punti e recuperarli sulla McLaren quindi io direi passo falso della Ferrari ha sbagliato l'approccio all'autodromo e lo abbiamo visto in prove libere subito nell'unico turno di prove libere dove erano oggettivamente in difficoltà i due piloti sull'asciutto non trovavano l'assetto e secondo me hanno vissuto un weekend difficile con una macchina che non si è adattata alla pista di Interlagos la SF24 sul bagnato non c'è mai sembrato una macchina straordinaria e il fatto che uno metodico come Carlos Sainz tiri due canonate abbastanza gratuite alla fine perché non aveva niente da guadagnare di importante forse testimonia la difficoltà nel riuscire a utilizzare la macchina il metro lo trovo in Carlos che è il metronomo ragioniere della squadra Charles porta a casa un prezioso quinto posto perché da un punto di vista della classifica dei pallini della classifica ha messo la Ferrari davanti alla McLaren questo comunque è un segnale che secondo me lascia aperta una porta psicologica che si possa ancora negli ultimi tre gran premi andare a caccia della McLaren sì e Las Vegas è una pista che sulla carta dovrebbe essere molto favorevole alla Ferrari ma ci ho visto l'indole del Leclerc che si adatta meglio a quelle che sono le situazioni abbiamo visto un Leclerc in certi momenti in grave difficoltà che non teneva il passo poi all'improvviso andava come i primi tre dando la sensazione che se ci fosse stato qualche giro in più magari poteva andare ad acchiappare Russell ecco è una Ferrari che ha un po' perso il bandolo in questo weekend spero che riprenda il filo dal Messico andando direttamente a Las Vegas non considero finita la partita perché questa McLaren con questi vuoti più mentali che tecnici può essere aggredibile Roberto che ne pensi ma allora credo che Leclerc abbia confermato con la sua gara le difficoltà che ha avuto la Ferrari nel gestire la gomma intermedia perché c'è stata all'inizio soprattutto all'inizio delle ripartenze all'inizio degli stinti è faticato molto non aveva proprio il ritmo poi man mano girando piano piano è arrivato il ritmo si è visto però non puoi permetterti di cominciare a spingere soltanto dal giro 7 o 8 perché nel frattempo gli avversari se ne sono andati ma aspettavo di più abbiamo capito che la pioggia non sembra essere un alleato di questa di questa monoposto quest'anno se ne è vista poca per sua fortuna Sainz ha commesso due errori che in teoria non sono da lui quindi c'erano delle difficoltà nel gestire la monoposto però effettivamente sì come diceva Franco ha un effetto psicologico vedere sulla classifica la Ferrari davanti ai due McLaren però il bicchiere mi sembra più mezzo pieno che mezzo cioè mezzo vuoto che mezzo pieno c'era la possibilità di portare a casa dei punti in più e di fare qualcosa di più importante poi uno può dire questo weekend la squadra che ha ottenuto più punti in assoluto è stata l'Alpine quindi è stato un weekend abbastanza sorprendente perché il Tic ha conquistato più punti a Interlagos però sì io credo che da un certo punto sì aritmeticamente non hanno perso tanto mi sembra che avevano perso sei punti se non ricordo male che può essere anche considerato un passivo di tappa accettabile ma non rispetto alla vigilia del weekend rispetto a come siano messe le cose sabato perché sabato con due McLaren in prima fila c'era anche la paura che questi facessero uno o due in gara quindi a quel punto lì sarebbero decollati nel mondiale costruttori poi sono d'accordo anche con Franco nel senso il campionato è aperto e la McLaren deve reagire perché il contraccolpo psicologico paradossalmente è più forte per la McLaren che per la Ferrari al termine di un weekend come questo una sottolineatura relativa alla Red Bull il ragionamento la gara è stata tutta di Max e nessuno lo può mettere in discussione c'è chi ha parlato come Giorgio del 70% del valore se non più di questa vittoria sul podio però Christian Horner ha mandato Pierre Vachet il direttore tecnico e questo anche questo è un segnale psicologico nelle battaglie che si devono poi andare a osservare che ha un grande valore perché il picconatore della squadra è stato papà Joss che ha tirato le randellate più grosse demolendo il sistema McLaren non certo il signor Christian Horner e questo segnale ha un suo valore mi taccio Giorgio il mondiale ai costruttori è una questione ancora aperta sì aperta grazie alla McLaren grazie a questo passo falso della McLaren Franco dice la Ferrari non ha messo una pezza la pezza per la Ferrari ce l'ha messa la McLaren che ha fallito il colpo grosso nella gara di domenica dopo aver dominato al sabato quindi in definitiva questa pista era stata indicata come la più negativa dell'ultima fase del campionato per la Ferrari essere riusciti a stare davanti alla McLaren in questa tappa è importante quindi metto una pezza però sono convinto che la reazione della McLaren dovrebbe essere altrettanto positiva in teoria la macchina la monoposto più a suo agio su tutte le piste è sempre la McLaren quindi se non ci saranno altri errori se la Ferrari risponderà bene perché a Las Vegas credo che arriveranno ancora delle novità in casa Ferrari ecco il mondiale è ancora aperto però più per demerito in questa situazione della McLaren che non per quello che ha mostrato invece la Ferrari in questa gara mentre invece le due precedenti hanno dimostrato un recupero veramente fantastico della squadra di Maranelli quale delle ultime piste che ci saranno in questo in questo finale di stagione vedi un po' più a favore la Ferrari che possa fare bene la Ferrari Las Vegas è da Woldarby penso Las Vegas lo ha dichiarato a mezze parole anche lo stesso Vasseur introducendo appunto anche le novità in quella gara lì mentre qui in Brasile davano quasi per scontato di dover giocare in difesa la Racing Bulls ragazzi porta a casa punti con la settima posizione di Tsunoda e la nonna di Lawson peccato per Yuki Robby perché scattava terzo aveva azzeccato anche la strategia poi ovviamente la bandiera rossa è andata ad azzerare tutti i valori peccato sì allora bel gran bel weekend quello che un po' recuperano otto punti sulla sull'AS quello che proprio non potevano mettere in conto che essere superati dal PIN perché questa devo dire che sotto a parte c'è una lotta nelle prime tre posizioni perché attenzione comunque sia la la Red Bull non si è riportata abbastanza vicino alla Ferrari per cui sappiamo che al momento praticamente hanno una macchina sola però sono quanti punti quanti punti 13 punti ci sono 13 ci sono 13 punti tra Red Bull e Ferrari quindi c'è una diciamo che c'è una lotta 3 poi c'è Mercedes la terra di nessuno lontanissima Aston Martin la terra di nessuno poi dal sesto posto al nono si smuove Williams grande sconfitta devo dire anche pesante perché tre incidenti pesanti in un weekend è qualcosa di veramente mette a dura prova tutti ieri dopo l'incidente di Colapinto hanno inquadrato i meccanici quasi piangevano mani nei capelli disperazione eh no vabbè ma ci manca però 8 punti per la per la Racing Bull vuol dire aver completato il migliore weekend stagionale dopo quello di di Miami quindi un salto in avanti importante in termini di di performance hanno sfruttato bene le occasioni hanno fatto quello che hanno potuto qualche errore ci sono state un paio di sbavature di Lowson però francamente pista nuova terza gara della stagione condizioni difficili credo che comunque alla fine non gli possano chiedere molto di più alla fine è pronto a casa due punti anche su Noda ha fatto quello che che poteva veramente resta il peccato eh perché credo che magari se tutti avessero seguito Racing Bull con le con le full wet probabilmente sarebbe stata la gara non sarebbe stata interrotta lo avrebbe guadagnato però in realtà io credo che visto il motivo poi per cui è stata interrotta la safety car io credo che la la visibilità avrebbe creato problemi ecco questo fine settimana abbiamo visto che in maniera abbastanza chiara eh praticamente la la full wet è una gomma inutile per come sono messe le cose ma non perché non sia costruita bene anzi scarica una quantità d'acqua enorme ma nel momento in cui le squadre montano la full wet vuol dire che eh la pista è ai limiti della praticabilità perché alzano così tanta acqua da compromettere la visibilità quindi alla fine è una gomma che resta lì un po' nel limbo è stato un weekend difficile come hai accennato tu giustamente Roby è pazzo anche per la AS Berman spesso per Prati poi addirittura Wilkenberg è squalificato e anche devo dire appunto per i meccanici della Williams ma anche della Stone Martin non deve essere stato un fine settimana veramente molto ecco la tua faccia spiega tutto molto molto eh tanto lavoro straordinario eh tanto di cappello ai meccanici astomati che sono riusciti a ripristinare due monoposto scusami se ti interrompo perché è stato bello comunque il team radio finale di Fernando dove dice si ho la schiena distrutta però voglio finire comunque la gara perché i meccanici hanno fatto un lavoro super è stato è stato straordinario lui gli ha reso onore dopo essere stati disonorati da da Lance Stroll perché ok già commettere un errore eh voglio dire nel giro di di ricognizione in più hai la strada per tornare in pista asfaltata e scegli di passare nella ghiaia e cioè veramente senza parole vai Giorgio parla perché la tua faccia dice tutto è stata io mi 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 diceva ma non è possibile aveva lei la strada asfaltata anche pochissimi metri da fare e si è andata a mettere dei guai ma proprio evidentemente non c'è proprio ma a questa ogni tanto mi sembra che abbia questo atteggiamento quasi che come le cose non gli interessassero io a Monzo ho avuto il gran piacere che speravo di farlo col safety car eh guidata dal pilota ufficiale della safety car che purtroppo aveva fatto invece l'incidente il giorno prima ho fatto un giro di pista con Lance Stroll e sai com'è finita che l'ho ringraziato per thank you very much for the safe trip ma proprio l'atteggiamento lui ogni tanto anche quando cammina nel paddock sembra quasi che faccia le cose perché lo obbligano non perché abbia questa voglia ecco il contrario del suo compagno di squadra questa voglia questa cattiveria questa eh volontà di tenere duro perché l'abbiamo visto anche come uscito dalla macchina Alonso che era veramente distrutto Lupi aveva la possibilità di rientrare no è andato a insabbiarsi mi ha ricordato Prost a Imola giù per la rivazza con la Ferrari e con questa chiusura di Franco ragazzi noi siamo arrivati al limite il tempo a nostra a disposizione si è concluso ovviamente ringrazio gli amici che ci hanno seguito se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale youtube di motorsport.com attivate la campanella delle notifiche e seguiteci anche su tutti i nostri canali social noi andremo ad approfondire tutti i temi che hanno caratterizzato la gara il fine settimana di Interlagos questa sera alle 18.30 nella nostra consueta live quindi Roby Franco e Giorgio ciao grazie e al prossimo video ciao a tutti ciao